Un sogno a cinque cerchi cullato da lungo tempo, quello che ha portato alla candidatura olimpica di Milano e della Lombardia. L'allora governatore Maroni già nell'autunno 2016 avanzò questa ipotesi per i giochi estivi del 2024 dopo la rinuncia di Roma. Troppi però i costi e gli impianti da costruire ex novo. Più realistica e sostenibile la candidatura diffusa di Milano e della Valtellina per i giochi invernali che ha cominciato a farsi strada con sempre maggiore concretezza a partire dal 2017. La concorrenza era innanzitutto interna ancora prima che internazionale, visto che in corsa c'erano anche Torino e Cortina. Tramontata l'ipotesi del CONI di una candidatura unitaria e fattasi da parte Torino, dall'autunno scorso ha preso corpo in via definitiva la formula inedita dell'alleanza Milano-Cortina-Dampezzo con il coinvolgimento di Valtellina, Valdifiemme e Alto Adige. Una candidatura forte che ha assunto sempre più valore col progressivo defilarsi delle altre città in lizza, inizialmente sette le aspiranti, fino alla sfida decisiva con Stoccolma. Punti di forza la sintonia politica fra tutti gli enti locali interessati, l'alleanza fra le due città e le rispettive regioni e anche la forte condivisione dei territori e dell'opinione pubblica. Ad inizio aprile la visita della commissione valutatrice del CIO in Alta Valle con focus su Livigno e le sue strutture, poi la lunga volata fino alla sessione del CIO a Lausanna. La provincia di Sondrio sarà protagonista nello snowboard freestyle, in programma proprio nel piccolo Tibet, dove sorgerà anche un villaggio olimpico e nello sci alpino maschile di casa sulla pista Stelvio di Bormio. A Milano le gare di hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e short track. Il calendario delle Olimpiadi Invernali 2026 si aprirà il 6 febbraio per chiudersi il 22, senza dimenticare subito dopo le Paralimpiadi che vedranno coinvolta anche la Val di Dentro.